Questa è una stelagia, ha un nome particolare, si chiama piattello come nome volgare. Piattello perché? Perché questa quando la trovai, la trovai proprio tutta piattita, proprio come una rosa, quindi per terra, proprio piattita. Quando la taglia, diventa come la crepice, la versicaria, come il grugno porcino. Si ripiega su se stessa. E si chiama nome volgare, piattello, costa d'asino. C'ha una radice un po' filtonante questa e se la taglia c'ha un lattice bianco. E' un'asteracea, di queste qui, dell'ipocherese, ce n'è 3-4 varietà, però si distinguono, bisogna trovarle, bisogna vedere sul campo. E' un'asteracea, c'ha un fiore giallo regolato, è ottima pure per mangiarla sia a cruda che a costa. Nome scientifico? Eh? Nome scientifico? Il pochere si radicata. Detto piattello? Detto piattello o costa d'asino? Grazie a tutti.